Musica Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Qingdao, un giovane medico sta utilizzando un apparecchio medico ad ultrasuoni per esaminare un paziente con dolore torracico acuto. Grazie alla misurazione automatica dell'apparecchio, la valutazione della funzione cardiaca viene completata rapidamente, fornendo una base per il successivo trattamento mirato. Questo dispositivo, oltre a offrire un'eccellente capacità di rappresentazione delle immagini, è in grado di effettuare misurazioni automatiche di cuore e vasi sanguini e assistere nella diagnosi di 16 funzioni. È importante sottolineare che nella pratica clinica medica l'ecografia è un ottimo strumento di supporto, ma la formazione di un medico specialista in ecografia richiede molto tempo. La funzione di diagnosi assistita di questo dispositivo consente ai medici, con altre specializzazioni di avanzare direttamente al livello di ecografista principiante, liberando così risorse umane e mediche. E qui si conclude il video di oggi. I vostri commenti, like, condivisioni e iscrizioni ci motivano a creare ancora più contenuti di qualità. Io sono Yao Yang e vi racconto la Cina che non conoscete.